Gli anellidi sono animaletti terrestri o acquatici, con il corpo suddiviso in segmenti. Questa che vediamo è una scolopendra marina, lunga pochi millimetri e fornita di 21 paia di appendici locomotorie, proprio come quelle terrestri che misurano invece più di 10 centimetri. Non conosciamo la loro storia evolutiva, ma possiamo supporre che qualche milione di anni fa alcune di queste microscopiche scolopendre decisero di abbandonare il mare per adattarsi alla vita terrestre. Questi sono microscopici anellidi di diversa lunghezza che hanno segmenti non ben delineati ed appartengono ad un unico genere. Un lungo anellide appartenente alla stessa famiglia di quelli prima osservati. Questo secondo anellide ha un uovo in addome a forma di disco rossiccio e delle incisure di cui chiariremo tra breve il significato.